e dov'è tanto io vengo nel Reising with Hiddemocco Body Parkour c'è che v'acca... Ima Mauro va, ma il mio collega c'è che v'acca ok, ci vuoi stanno ok ma stai... ma io v'annvo qua se tu escazi nasci v'acca, 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 v'acca è che mi piace, è impossibile ora ora io ci sono qui con la mia caneca io ci sono qui con la mia caneca io ci sono qui dove vai 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 qui Tu devi fare l'attaccia oi hai guardato tu devi fare l'attaccia v'acca... come... 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 tu adesso v'acca... dove vai 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 Anfala, bravi Vajda, vajda, vajda Grazie, grazie, grazie Vajda, doi il mio collega Ok, io vanno, come What? Hidimo, se ti vanno Vanno Oh la Oh la Eh Va nach Uh Non A Ba I Ma J 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 no no non 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 eh? ah ok, nice ma io vanno vanno a fare questo vanno come ci riesco vanno 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 a fare questo vanno a fare questo vanno a fare questo vanno 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 che 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 il primo il primo il primo oh no il primo il primo il primo oh no no ok ilpus il n'o resulting il pubblica il pubblica il pubblica ... ... ... che stai ... ... ... ... Buongiorno! Ehhh No, 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 ne ilестно mi mamma verona 주er 효 horrendously Bueno ..è non sta apprezzando la tita No Me Shoppe ! ? ? ehi Alice Officie Mauro 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 Officie a 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 motor a 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